Appuntamento domani pomeriggio e sciacca per la settima edizione delle Memorie al Fabrizio Piro, caccia al tesoro fotografica proposta dall'Associazione di Promozione Sociale L'Altra Sciacca e L'Altra Sciacca Foto, da amici e familiari di Fabrizio Piro, dalla community Instagram Igers Agrigento e con il Patrocino del Comune. Un momento importante in memoria del fotografo saccense Fabrizio Piro prematuramente scomparso, ma quest'anno anche un modo per ricordare Gianni Piro, padre di Fabrizio e tra i fondatori di RMKTV e direttore della nostra testata giornalistica. Il raduno delle squadre partecipanti è previsto per le ore 17 presso l'atrio superiore del Comune di Sciacca, mentre la partenza del gioco sarà per le 17.45. Il campo di gara e il tema di quest'anno saranno resi noti all'avvio della manifestazione. Già da alcuni giorni le iscrizioni sono sold out e saranno ben 20 le squadre in gara per un totale di 72 partecipanti, tra cui 25 bambini. La caccia al tesoro fotografica, oltre ad essere un momento di svago e di condivisione, vuole essere uno strumento di conoscenza del territorio e delle peculiarità artistiche, paesaggistiche e culturali della città di Sciacca. Il gioco consiste nel trovare e fotografare 11 obiettivi nel percorso che si snoderà tra le vie della città, presenti in una lista che verrà consegnata ad ogni squadra al momento della partenza. Nei giorni successivi una giuria, composta da esperti del settore, valuterà gli elaborati e verranno assegnati premi alla squadra che effettuerà nel complesso le foto più belle, alla foto a tema più bella e il premio Life per il contributo relativo all'indizio Instagram più originale. Vi aspettiamo!